Seguo con piacere sempre le squadre nelle quali ho militato, poi Catania insomma, anche se per una breve parentesi è rimasta dentro per l'affetto che mi hanno manifestato la gente alla città, nonostante avessi giocato soltanto otto partite, quindi è qualcosa che è rimasto dentro il mio cuore, anche che poi avevamo una squadra fatta innanzitutto di uomini e poi di ragazzi per bene, è che è sempre difficile avere questo connubio insieme. Capisco bene la delusione della gente, perché poi Catania in Serie C è qualcosa che stona, che stridi un pochettino con quello che dovrebbe essere la città. Quest'anno la lotta è anche abbastanza serrata, visto la presenza di squadre con Blasone, Blasone è importante, vedi Catanzaro, anche se in questo momento è in difficoltà, il Bari, il Catania, insomma quindi è un campionato importante e difficile, Regina insomma, la Ternana che in questo momento si è in testa al campionato, quindi nonostante abbia perso una partita. Catania avrebbe bisogno sì che la squadra svegliasse di nuovo quella passione nel tifoso e questo lo può dare soltanto purtroppo i risultati. So che la dirigenza ha fatto sforzi abbastanza importanti, ci sono state decisioni anche abbastanza severe e importanti nei confronti di alcuni giocatori che avevano un certo peso all'interno dello sfogliatorio, quindi si sta cercando in tutte le maniere, credo, di portare Catania al posto che merita. È un percorso lungo, difficile e ci vuole l'aiuto di tutti e spero appunto che i risultati possano in qualche maniera aiutare a ritrovare l'entusiasmo che in questo momento manca.